Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati qui su Fano TV, a quest'ora c'è la rassegna stampa, occhio ai giornali come ogni mattina, resto del Carlino, Corriere Adriatico nelle edizioni locali, sfioreremo e guarderemo le notizie principali che compaiono sui quotidiani oggi ma non prima di aver guardato anche il calendario e le previsioni del tempo, guardiamo oggi l'almanacco che cosa ci propone, oggi sabato 12 agosto, la chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca de Chantal, una religiosa, il sole è sorto alle 6.07 e tramonterà alle 20.18 per le divisioni del tempo che per oggi si presentano un po' così all'insegna della variabilità del resto stanotte abbiamo avuto diversi rovesci sparsi in tutta la regione compreso qui da noi se ne sarà accorto chi si è svegliato presto stamattina però vi dico subito che il tutto durerà giusto la giornata di oggi durante la prima parte della giornata appunto nuvoloso a tratti molto nuvoloso e le precipitazioni presenti nella prima parte della giornata anche a carattere di rovescio e temporale con forte intensità, vedete la cartina anche compaiono i fulmini, la simbologia dei fulmini maggiormente sui rilievi però anche sulla costa anche qui da noi stamattina presto c'è stato un bel temporale. Allora invece domani come vi dicevo cambia di nuovo la situazione, ritorniamo a quella dei giorni precedenti di tutta la settimana praticamente che già conosciamo, sereno, nessuna precipitazione, temperature stazionale, le massime sono in ripresa quindi rialzano dopo la rinfrescata di oggi e anche per lunedì vedete veramente molto scar nelle didascalie, sereno, nessuna precipitazione, temperature stazionarie e quindi anche come tendenza per i giorni successivi le condizioni saranno di tempo stabile e molto soleggiato. Guardiamo le temperature, sono scese parecchio, vedete sono tutte sotto i 30 gradi, le punte massime sono ad Ascoli sui 26, però insomma queste sono le massime alle ore 14 a Senigallia, 27 gradi ma anche da noi siamo sull'ordine dei 27 gradi insomma quindi vedete le temperature sono scese di diversi gradi rispetto a quelle dei giorni passati in cui si sono sfiorati oltre i 35 gradi. Andiamo nelle pagine dei quotidiani, vi porto in quella del Corriere Adriatico la pagina di apertura dell'inserto che porta come fotonotizia e quindi notizia centrale la morte di un ex carabiniere in un incidente mortale, muore in moto sulla Pergolese a due passi veramente da casa a 50 metri con un'auto che svoltava a sinistra, la vedete qui nella foto, due paesi sotto shock perché la persona vittima dell'incidente è Roberto Angrisani di 53 anni, molto conosciuto in città, è un ex carabiniere, dopo vedremo nella pagina che lo riguarda di che cosa si tratta. Crack con farti, i beni verranno messi all'asta, va deserta quella della Mulazzani SPA ma il comune mette in vendita abitazioni, in uffici e terreni. Siamo a Pesaro e poi anche qui a piedipagina l'addio oggi al bagnino eroe. Una lezione per 100 bambini, giornata di esercitazioni in Sassonia e poi furgoni a fuoco in superstrada, comprese anche le sterpaglie adiacenti alla corsia. Vi porto a Pesaro per farvi vedere l'articolo che riguarda le candele, le candele galleggianti, un format mondiale che piace, 20.000 fiammelle accese da Baiafamiglia a forse sei ore, vedete qui un raggiante assessore Belloni. Ancora nella pagina del Corriere Adriatico, dicevamo il lancio nella testa della pagina di apertura, case terreni, il comune svende qualche bene, prova a far cassa, mette in vendita i suoi beni, l'asta è fissata per il 29 settembre, sette immobili di proprietà inseriti nel bando per l'alienazione. La notizia dell'incidente la vediamo subito nella pagina che riguarda la Valle Cesano, eccolo qui in questa foto ritratta, era un uomo molto stimato e conosciuto, un ex carabiniere in congedo e ha prestato servizio anche a Mondolfo, lo vediamo qui. Lo schianto è avvenuto, lo schianto fatale a 50 metri da casa, ex carabiniere, papà muore purtroppo sul colpo, percorreva la Pergolese a Castelvecchio quando una panda ha svoltato, per entrare probabilmente vedete qui lo scooter, la moto dell'ex carabiniere, svoltava in questo cancelletto e quindi insomma purtroppo non c'è stato nulla da fare, ultima frenata però purtroppo un trauma cranico l'ha tolto all'affetto dei suoi cari. Andiamo nella pagina di Urbino che ha una pagina di tutt'altro tenore, dame e cortigiani a Correte parte oggi la festa del Duca, la sfilata storica, tre giorni che catapulta la città nel rinascimento, una delle cose più apprezzate di questa edizione è il ritorno degli spettacoli teatrali a Palazzo Ducale, ha detto Peter Aufreiter il direttore che è giusto che insomma a Palazzo Ducale ci siano gli spettacoli perché Palazzo Ducale era teatro di spettacoli all'epoca e quindi insomma il contesto è più che mai giusto. Torniamo nel Corriere, nelle pagine di Fano per la cronaca, ieri chi è passato in superstrada se ne sarà accorto, c'era dalle parti dello svincolo di Bellocchi, Bellocchi zona industriale diverse fiamme ed erano causate da un furgone che è andato a fuoco, tra l'altro un furgone che portava degli scarti di lavorazione di un'azienda alimentare che fa piedine e quindi insomma le piedine sono state cotte direttamente sul cassone del furgone, erano scarti industriali che erano destinati a un'azienda di trasformazione di Cesena per mangimi animali. Furgoni a fuoco, paura per le fiamme sulle sterpaglie ma poche ore prima l'incendio di un'auto preceduto da una raffica di incidenti e però insomma in una mezz'oretta i vigili del fuoco hanno avuto ben ragione delle fiamme, appunto vigili del fuoco domate le fiamme anche la combustione di una Opel Corsa nella notte, questo riguarda un altro fatto di cronaca. Ex Agip, la farmacia prescrive nuovi parcheggi, la farmacia naturalmente è quella adiacente di Vannucci a Corso a Cavour, no all'area verde dice il farmacista, una zona inquinata e pericolosa l'esempio è lo sferisterio e quindi insomma lui protende per, come un po' tutti i commercianti di quella zona di via Cavour, protendono anche per un'area adebita anche a parcheggio visto anche l'adiacenza di una scuola in cui nelle ore di punta c'è una grossa densità di auto e di traffico. E poi oggi, oggi è l'ultimo saluto, il giorno dell'ultimo saluto a Bigio, tantissimi sicuramente saranno presenti in chiesa. Stamattina il funerale alla Gran Madre di Dio, giovedì Asi ha spiegato con un gioco le dieci regole per il mare sicuro. Giovedì siamo in spiaggia, l'Associazione Nazionale di Salvamento ha avuto questa bella iniziativa, i bagni Carlo, per spiegare come ci si deve comportare quando si sta in mare in riva al mare. Questa iniziativa ha coinvolto oltre 100 bambini che vedete ritratti qui nella foto e poi nel riquadro, una delle foto più viste in questi giorni di Bigio, che lo ritrae in questa espressione sicuramente scanzonata come era lui. E quindi quest'oggi, oltre al lutto cittadino, ci saranno i funerali alla Gran Madre di Dio. E poi cambiamo pagina, andiamo anche a Fano per parlare di eventi particolarmente coinvolgenti. Ecco la notte dei desideri, magia, musica e sicurezza, migliaia di lanterne. Stasera, e diciamo stasera tempo permettendo, naturalmente il lancio delle lanterne verrà vagliato fino all'ultimo dagli organizzatori, però se tutto andrà come deve andare, prenderanno il volo a Torrette, migliaia di lanterne dalla spiaggia, insomma un momento molto suggestivo, che avverrà intorno alle 22, insomma allo scoccare delle 22, vedete appunto nella spiaggia di Torrette, si alzerà lo sguardo al cielo e si vedrà questo spettacolo di tante fiammelle, di tante lanterne cinesi, quelle di carte, tutte biodegradabili, alzarsi dalla spiaggia. Insomma l'appuntamento è per le 20 a Torrette e naturalmente il tutto verrà gestito nel migliore dei modi per evitare, purtroppo come è accaduto anche in passato, non qui a Fano, ma a Pesaro, insomma, che una di queste lanterne cadesse non dove doveva cadere. Allora a Pesaro, nella pagina che riguarda l'apertura, fotonotizia di tono completamente diverso, si parla appunto di prosciugati ed eccolo qua, il lago del Foglia non c'è più, la falda ai minimi, torrenti in secca, pesci morenti nel fango e vedete qui, qua in questo che sembra una pozzanghera in realtà è il letto del lago, vedete qui si vede nel riquadro una figura umana, insomma vedete naturalmente la proporzione, è tutto secco e poi di spalla l'addio a bigio con le bandiere a mezzasta, certe tragedie, non capitino più. Andiamo nella pagina che riguarda la cronaca, si parla di un fatto di pedofilia che una famiglia sta affrontando, praticamente il padre dice proteggiamo Baby J, si chiama questa setta nella quale il bambino sarebbe ricoerato in America, a Houston, Children of God, movimento religioso tra virgolette, per altri una setta, un passato coinvolto in reati di pedofilia, un padre e un figlio conteso a Houston, parla lo zio del piccolo appunto che dice proteggiamo Baby Jane e qui in alcuni scatti vedete la famiglia e il bambino, il problema di lui, Stefano se potesse subito tornerebbe a casa ma deve difendere il suo bambino e quindi rimane in America. Ma lo zio è in contatto ogni giorno, sono appena tornata dopo aver testimoniato a Houston. L'articolo che riguarda appunto la siccità, ve lo faccio vedere, guardate qui è ancora meglio, è ancora più evidente la foto, vedete lo sconsolato personaggio che mostra il letto del lago ma non stanno meglio gli altri greti, vedete qui un gretto di un fiume, siamo ad Apecchio, il tentativo di alcuni volontari di salvare dei pesci ma spuntano anche dagli scarichi, insomma veramente una situazione idrica ai minimi termini come non si era mai visto, pompe in azione per le vigne ma anche per i campi sportivi sorgenti sono completamente ineredite, caccia alle ultime gocce d'acqua. Nella pagina di Fano del resto del Carlino si parla appunto della tragica scomparsa dell'ex carabiniere che muore a pochi metri da casa, lascia tre figli, uno tra l'altro di otto mesi, lui era appunto in scooter e qui vedete i momenti subito dopo la tragedia, il maresciallo Pellegrino dice era un militare irreprensibile di una persona solare, aveva lavorato vent'anni a Mondolfo e vedete ecco qui una foto di Roberto Angrisani di 53 anni, origini bolognesi, carabiniere in congedo. E poi lavoro per i vigili del fuoco anche nella tarda serata di ieri, una 24 ore di fuoco si dice in via Nazario Sauro è andato in fiamme una vecchia Opel Corsa e vedete l'auto che gli sta davanti, fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza, però vigili del fuoco in azione, anche qui fiamme domate in pochissimo tempo. Tutti per salutare Bigio, tutta la città si ferma, lutto cittadino per il funerale, bandiere a mezzasta e sala cinesche abbassate, perché ricordiamo che Bigio è stato un commerciante con la sua famosa drogheria, drogheria Ricci all'inizio di via Cavour per tanto tempo e poi si era dedicato anche alla ristorazione e ultimamente aveva deciso di passare il suo tempo in spiaggia con nel cuore l'intento di salvare le persone, quindi faceva l'addetto al salvamento, cosa che gli è costata la vita appunto, un estremo sacrificio quello di Bigio nel salvare questa famiglia in difficoltà e quindi oggi ci sarà l'ultimo saluto alla Gran Madre di Dio a San Lazzaro e quindi tante iniziative anche riportate qui nella pagina del resto del Carlino, tra cui a lume di candela lo shopping tiro, un'iniziativa che c'è stata l'altro giorno, un centro illuminato da tante candele per incentivare il passeggio e lo shopping serale. Poi nel Pincio tirato a lucido dal 15 al 19 agosto ci sarà Birra d'Augusto, la manifestazione che celebra questa bevanda così gustosa e così amata da tanti. Nella pagina l'ultima che vi faccio vedere di Urbino e del resto del Carlino si parla anche qui della festa rinascimentale da oggi fino al 14 di agosto, musiche, spettacoli, cortei storici, tutta la città, tutto il centro di Urbino è movimentato per questa full immersion nel rinascimento e poi il culmine sarà toccato anche con la manifestazione che riguarda l'Aita, la partita un po' così abbastanza animata che è un po' il simbolo di questa manifestazione. Vedete qui intanto un arciere che scocca il suo dardo con alle spalle i torricini. Bene, con questa suggestiva immagine io vi lascio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Termina qui la rassegna stampa, l'ultima rassegna stampa della settimana. Occhio ai giornali, torna però lunedì mattina alle 7.30 puntualmente. Grazie e buon fine settimana. A tutti voi.